Allora io vi sfido, mostratevi nudi. Io non mi spoglio certo per te. Non parlo di scoprire il corpo, ma magari un piccolo pezzo della tua anima. Quando ti offro la mano non ti sto solo invitando a ballare. Ti sto chiedendo di fidarti di me. Dai, dai! Forza, forza! Dai! Vieni! Ricorda che stai stringendo la perfezione, la più bella delle creature che ci sia al mondo. E ora, il ritmo. Parapà, parapà, parapà. Il compito dell'uomo è rendere la donna meravigliosa, farla brillare. Così gli altri uomini sono invidiosi, la vogliono, ma non possono averla. Grazie. Sì, bravi! Provate voi. Proviamo. Che calor!